Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nel programma L'Aria che tira con Pietro Senaldi che dice Beh, vedo troppa agitazione nella maggioranza, la luna di miele è finita nel governo. Pietro Senaldi vede malumori all'interno del governo e ci sono in realtà. Descrive un clima assolutamente nervoso. Le lune di miele finiscono in fretta. Vedo agitazione nella maggioranza e preoccupazione. È una pessima consigliera. Sulla 7, da Francesco Magnani, il condirettore di Libero punta il dito contro quei partiti in crisi d'identità che non trovano la loro finalità storica all'interno del sostegno di Draghi e si agitano per trovarla. Da qui il presentimento che siamo entrati in campagna elettorale che durerà sei mesi o un anno e mezzo. Il ruolo di Draghi non può essere che quello di vittima di questo sistema. Ma con chi ce l'ha Senaldi? A quale partito si riferisce? Probabilmente al Movimento 5 Stelle in primis. Giuseppe Conte, a capo dei grillini, non solo litigano per il nuovo statuto e le varie funzioni, ma anche per la riforma della giustizia. Lo stesso Giuseppe ha ammesso che non lascerà la riforma così com'è, dunque invariata. La proposta di Marta Cartabia. Draghi ha già detto che metterò la fiducia. Nei 5 Stelle parlano di ritiro dei ministri e, con conseguente, uscita dal governo. Quello che si parlava proprio nelle settimane scorse, l'idea del Giuseppe è di uscire dal governo, visto che Draghi gli ha portato via il posto, uscire dal governo, mettersi all'opposizione e cercare di recuperare qualche voto prima delle elezioni. Il raccatta voti. Ma ce la farà il raccatta voti? Cosa gli racconta ai 5 Stelle delusi che sono tornati nei propri partiti? Caro Giuseppe, quel 14% che non scende sono tutti percettori del reddito di cittadinanza e i loro familiari. Basta fare un calcolo con una comune calcolatrice, l'abbiamo fatto tante volte, vi rendete conto che contando i fruitori del reddito di cittadinanza più un'altra persona in casa che votano per i 5 Stelle e si fa il 14% che ha il Movimento 5 Stelle. Senza il reddito di cittadinanza credo che il Movimento sarebbe tipo quei partiti che fa Totti, quelli da 0, qualcosa. Beh, la riforma dei 5 Stelle, quella fatta da DJ Fofo Bonafede, è stata cancellata, mandando su tutte le furie i 5 Stelle. Tutte le furie per modo di dire, a quelli interessa solo lo stipendio. Altra battaglia è quella del Partito Democratico, che punta su altri decreti. I Dem non fanno altro che scontrarsi con quei partiti come Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva che chiedono di ritoccare le proposte di legge del PD. Tutti i nodi che non fanno dormire sono i tranquilli a Draghi, o perlomeno, probabilmente, forse non gliene frega proprio niente. A lui interessa solo andare avanti il più velocemente possibile per magari andare al Quirinale. Beh, poi c'è l'obbligatorietà del Green Pass. Senaldi dice che l'obbligatorietà non è una soluzione. No, non è una soluzione. La soluzione è vaccinarsi. E la preoccupazione c'è, visto che lo slogan di questo governo era proprio quello del rischio calcolato. Mi sapevo in fretta passare al rischio calcolato male. Eh, ma quando, caro Senaldi, c'è un rischio, le soluzioni non sono più che altro delle soluzioni, ma sono dei tentativi. Quello che si sta facendo nel mondo sono dei tentativi. Niente di più. Che siamo entrati in campagna elettorale... Eh, dai, dai. La politica italiana è sempre in campagna elettorale. Sempre. Ma non perché ci sono le amministrative, le comunali, le condominali. Il politico, ormai da qualche... negli ultimi 15 anni, non è più il politico di una volta. Il politico attuale, quando viene eletto, l'unica cosa a cui pensa, l'unica cosa che interessa a questi politici, è come essere rieletti di nuovo. Pertanto, tutto è improntato alla rielezione, utilizzando le bandierine, quelle che vengono chiamate adesso le bandierine, per attirare l'elettorato e continuare ad essere eletti. Tutto qua. Cercare di intercettare l'elettorato con le cose più svariate, guardate, eletta con i 10.000 euro e 18 anni, quello è veramente stata una delle cose più ridicole che abbia mai sentito in vita mia. 10.000 euro ai 18 anni per indurli a votare per lui, visto che adesso i 18 anni potranno votare anche al Senato. 18 anni, 19 anni, fino a 24-25 anni, sono 4 milioni e mezzo di persone. Questo vi fa capire la politica. Solo con questo che vi racconto di Letta si capisce tutto. Letta propone ai 18 anni 10.000 euro, in modo che i diciottenni che adesso andranno a votare al Senato, circa 4 milioni e mezzo, da 18 a 25 anni, voteranno per lui con le loro famiglie, in modo che lui diventi il primo partito. Ecco, capite che a Letta dei diciottenni non gliene può fregare di meno, ma proprio zero. È tutto improntato a un vantaggio elettorale. Dice, i 5 Stelle hanno il reddito di cittadinanza, io che posso fare? Ah, i diciottenni. Solo che non avevano raccontato a Letta, nessuno gli aveva mai detto, che i sondaggisti, nelle loro rilevazioni, hanno visto che i diciottenni, 19 anni, 20 anni, 21 anni, 22 anni, 23 anni, 24 anni, voterebbero per la stragrande maggioranza per il centrodestra. Letta, non te l'aveva detto nessuno? Motto, dico io, hai sbagliato con i diciottenni, dovrevi puntare da un'altra parte, lascia perdere. Cambia età, non so, proponi 10.000 euro ai cinquantenni, ai quarantenni, ai trentenni. Potresti fare la proposta 10.000 euro a tutti quelli che hanno tra i 30 e i 35 anni per comprarsi una macchina nuova. Eh? Secondo me qualcuno ti voterebbe. Oppure potresti dire 50.000 euro a fondo perduto a tutti quelli che hanno tra i 35 e i 40 anni per comprarsi una casa. Eh? Insomma, così sarei buono anch'io, eh? A proporre a ogni fascia d'età qualcosa, no? Se mi voti tra i 18 e i 20 anni ti do un cellulare nuovo di ultima generazione, tra i 20 e i 23 anni ti do una vacanza ai Caraibi con gli amici. Ecco, vi piace vincere facile? Ecco. Insomma, una politica un po' all'acqua di rose, un po' infantile, scioccherellina, perché, caroletta, non hai pensato che prima di sparare questa roba qua dei 10.000 euro gli italiani l'avrebbero capito immediatamente? Ma forse molti politici sottovalutano l'intelligenza degli italiani. Questa è l'unica spiegazione. Proprio mancanza di rispetto per l'intelligenza degli italiani. Perché proporre 10.000 euro è palese il tuo intento di accapparrarti il loro voto. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.